Sulle primarie cosa ci dite? La data l'avete decisa? Confermata? No, io so che questa sera ci sarà la riunione del centro-sinistra di Roma che affronterà il tema si è deciso le primarie e verranno messi a punto i dettagli e le date. Io sono molto contento e soddisfatto che si sia fatta la scelta delle primarie e cioè del convolgimento dei Romani e delle Romani per scegliere il candidato sindaco del centro-sinistra. Dico anche che in queste ore girano tanti retroscena, tante ricostruzioni che anche in parte mi riguardano ma il tema è molto semplice. Ovviamente a me fa molto piacere questo calore e anche questa grande fiducia che si esprime nei confronti del lavoro che ho fatto come amministratore in questi anni. Abbiamo preso una regione distrutta e su tanti temi siamo diventati un buon modello. Questo è un risultato della nostra comunità ed è importante. Io però voglio continuare a svolgere questo ruolo. Non è cambiato nulla, lo confermo questo mio intendimento. Ci sono personalità forti, credibili, autorevoli, mosse dall'amore per Roma e chi vincerà quelle primarie sarà il candidato più forte per vincere le elezioni. Quindi bene questo passo di oggi che credo il centro-sinistra farà in giornata. Si parte con la campagna per vincere e ridare una speranza alla città. Grazie. L'uscita di Grillo sul figlio? Può girarsi? Sono un bruttissimo modo purtroppo di affrontare un tema privato che ovviamente non condivido.